E' tempo di big match nel campionato di Serie A di pallamano femminile. Sabato pomeriggio alle 18 al Palazzo San Giacomo l'imbattuta capolista Iomi Salerno sfiderà le campionesse d'Italia in carica dell'Indeco Conversano. E' il momento del confronto diretto tra le formazioni che stanno dominando il campionato con un ruolino di marcia invidiabile. Da primato quello delle salernitane che hanno vinto fin qui 21 gare consecutive vantano la miglior difesa e il secondo attacco più prolifico. Di contro le pugliesi hanno inanellato 20 vittorie su 21 perdendo solo a Salerno grazie anche al miglior attacco della massima serie e alla seconda difesa meno battuta. A presentare la partita in Puglia in casa campana e Antonella Coppola capitano e bandiera della Iomi sarà la gara più importante di questa prima fase di campionato a esordito in una nota ufficiale diffusa dalla stessa Iomi. Ci arriviamo in un ottimo momento di forma e con l'organico finalmente al completo avendo recuperato Valentina Landri e Liubica Ceklic assenti da parecchio tempo. Avere la possibilità di poter adottare varie soluzioni potrebbe essere un'arma determinante insieme al reparto difensivo del quale abbiamo fatto un nostro punto di forza. L'approccio? Vivremo questo incontro come una finale.